Sono Alessandro Fantini, il mio pseudonimo artistico è AFAN, col quale tutti mi conoscono, ho 36 anni. Un odore giapponese che mi ha influenzato dal punto di vista biografico e direi anche bioemotivo. Si rifà sia al giovane Holden, sia a Scott Fitzgerald, alla letteratura americana, alla musica classica. Ha, a mio parere, un parallelo filmico in David Lynch, nella poetica, anche se vogliamo, di Louis Bunuel. Il suo stile potrebbe essere definito come una crisalide d'aria che fluttua da una betulla. È una vicenda di iniziazione del giovane Toru, che si dibatte tra due amori. È molto carnale, molto erotico. È una carnalità spirituale, una carnalità dei precordi dell'anima, che solo lui riesce a sintetizzare in una poesia della prosa. Quest'autore cerca, diciamo, la ruggiada dell'onestà interiore. Avevo 37 anni ed ero seduto a bordo di un Boeing 747. Il gigantesco velivolo aveva cominciato la discesa attraverso densi strati di nubi piovose e dopo poco sarebbe atterrato all'aeroporto di Hamburgo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS